Ticket governo Crocetta abbattuto in commissione sanità, Gesip, il sindaco Orlando, la via indicata dal comune è l'unica percorribile, a Vilabbate il convegno i labirinti dell'infanzia, ben trovati a questa seconda edizione di Media News, oggi venerdì 15 marzo, il governo Crocetta viene battuto in commissione sanità sulla proposta di aumentare i ticket, la proposta appunto è stata bocciata all'unanimità. Avrebbe dovuto portare un po' di ossigeno nelle asfittiche casse della regione, invece la commissione sanità dell'Arsa ha bocciato la proposta del governo di aumentare il ticket sui farmaci. La proposta nel dettaglio prevedeva l'inserimento di due ticket, il primo consisteva nella maggiorazione di un euro rispetto agli attuali ticket sanitari che sarebbero passati da 2 a 3 euro, per il ricovero invece era previsto un ticket da 10 euro al giorno per i componenti di nuclei familiari con reddito superiore a 50.000 euro. Il costo del ticket sarebbe salito a 25 euro al giorno per il reddito oltre 100.000 euro. Il costo si riferiva alla prima settimana di ricovero, un massimo di 70 euro nel primo caso e di 175 euro nel secondo. Il ticket sarebbe stato dimezzato nella seconda eventuale settimana di ricovero. Il ticket sanitario è stato bocciato all'unanimità, l'altro a maggioranza. Adesso il governo dovrà trovare altre soluzioni. Il no ai ticket è stato forse inaspettato per il presidente della regione secondo il quale rappresentava una misura di giustizia sociale, ma anche per la composizione della commissione sanità, dove schiacciante la maggioranza di deputati che appartengono alle forze alleate del governo. La commissione ha invece approvato la proposta di Gino Ioppolo, gruppolista musumeci, che dà una boccata di ossigeno per i giovani laureati in materie sanitarie con la previsione di 3 milioni di euro per il 2013. La proposta del governo Crocetta era invece di sopprimere la previsione di bilancio. La commissione ambiente dell'Assemblea regionale siciliana ha dato l'ok all'emendamento del governo per il raddoppio del capitolo del bilancio relativo ai finanziamenti dei trasporti da e per le isole minori, che passa da quasi 46 milioni di euro a 90 milioni. Resta ora lo scoglio dell'aula. Il presidente della commissione ambiente, Giampiero Trizzino, si dice fiducioso sul via libera finale. Abbiamo accolto, dice Trizzino, molto favorevolmente l'emendamento del governo. Se arriverà il sì dell'aula, per il quale noi ci batteremo, si dovrebbero evitare i problemi che si sono registrati nel recente passato e che hanno rischiato di mandare in tilt trasporti e approvvigionamenti. Il giudice del lavoro del Tribunale di Palermo ha rigettato il ricorso del dirsi il sindacato dei dirigenti regionali che aveva chiesto di revocare la rotazione del governo regionale ritenendo che utilizzare al meglio le proprie risorse umane rientra appunto nel potere della pubblica amministrazione. E si è costituito un comitato per il mantenimento della sezione di staccata di Cefalu del Tribunale di Termini Imerese. Componenti del comitato sono i sindaci di alcuni comuni del comprensorio Madonita, Cefalu, Gratteri, Collesano, Campo Felice di Roccella, Petralia Sottana, Lascari, Castelbuono e San Mauro Castelverde, oltre a numerosi cittadini. Si procederà adesso ad una raccolta firme dei cittadini del comprensorio volta a supportare la proposta di legge di iniziativa popolare depositata al Senato il 22 gennaio del 2013 avente per oggetto riforma della geografia giudiziaria. Le firme raccolte saranno inviate a tutti i gruppi parlamentari delle Camere affinché all'immediatezza inseriscano all'ordine del giorno dei lavori delle rispettive Camere la suddetta proposta di legge. Minacce alla calica, oggi pomeriggio tutti a prendere un caffè anti-racket per esprimere solidarietà all'imprenditore Gianluca Calì. Lo abbiamo intervistato. Non voglio essere un paladino, non voglio essere un cosiddetto eroe, ma sono e voglio essere rappresentato come una persona normalissima, comunissima. Questo cartello è nato dalla esasperazione, dal fatto che da due anni che vivo con l'incubo che la notte mi squilli il telefono e che mi si dica che ci sono delle mie vetture che stanno prendendo fuoco. Perché due anni fa c'è stato un fatto gravissimo, voi avevate la sede espositiva a Casteldaccia e c'è stato, mi pare, nel mese di maggio un attentato, un atto intimidatorio gravissimo che vi ha colpito. Sì, la notte tra il 3 e il 4 di aprile del 2011, come dicevo, sono stato svegliato da una telefonata in cui si diceva che c'erano delle autovetture di mia proprietà che stavano per prendere fuoco. Da quel giorno, ahimè, io vivo giornalmente con l'incubo che la cosa si possa assolutamente riproporre e ripresentare. Dopo che la scorsa settimana sono venute queste persone che paventavano l'ipotesi e la possibilità che la cosa si potesse riproporre, preso dallo sconforto, preso dal momento di ansia e di panico, rivivendo tutto quello che ho vissuto e che continuo a vivere giornalmente, sono andato ovviamente come doveroso immediatamente a denunciare il fatto, dopodiché sono andato a scrivere questo cartello, l'ho appeso immediatamente, ma il mio non voleva essere una protesta, il mio è proprio un invito alla cittadinanza comune, civile, per bene, per cui la Sicilia è la totalità di questa gente, chiedere aiuto e chiedere una mano nell'avvisare le forze dell'ordine e i vigili del fuoco nel caso in cui accada qualche spiacevole episodio. Da subito ho visto una cosa che non era mai accaduta, e cioè il fatto che sui social forum, mezzi di comunicazione ormai di evoluzione, di massa che si espande a macchia d'olio, la gente per bene, che dico, essere la totalità che ha messo la propria faccia, il proprio nome e cognome, è un attestato di stima e solidarietà che è un segnale molto forte, importante, che ci serve a non morire, come ho scritto io nel cartello, ma soprattutto ad alzare la testa e cercare di reagire con quello che la civiltà e le persone comuni possono permetterci di andare avanti. Per motivi tecnici il Parco Cassarà di Palermo sarà aperto sabato e domenica prossimo solo dalle 7.30 alle 13 e solo all'ingresso di Corso Pisani, resterà infatti chiuso l'ingresso di via Ernesto Basile. Ci fermiamo adesso per una prima pausa pubblicitaria, tra poco. E' arrivato il digitale terrestre, basta un decoder o un televisore con sintonizzatore integrato per poter ricevere la nuova offerta televisiva. Continua a seguire le nostre TV sul digitale, Tele One sul canale 19, Antenna 1 sul canale 185 e Video One sul canale 196. Non perderci di vista, posizionaci tra i preferiti o ricorda le numerazioni. Potrai anche vederci nelle province di Catania, Caltanissetta, Enna e Ragusa. Più copertura, più qualità, più servizi. Seguici sul digitale terrestre. Dopo la giornata di passione di oggi per quel che riguarda la GESIP a Palermo con cortei, proteste e scontri tra manifestanti e polizia, interviene sul tema il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, il piano del comune unica via percorribile, dice il primo cittadino. Anche il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, è intervenuto sulla vicenda GESIP che oggi ha dettato l'agenda non solo informativa della città. Qualcuno ha continuato a prendere in giro i lavoratori per coprire le responsabilità che saranno accertate e vagliate dalle autorità competenti legate ad un utilizzo improprio della cassa integrazione in Sicilia negli ultimi anni. E questa è la denuncia del primo cittadino che ha preso visione oggi della nota con cui il segretario generale del Ministero del Lavoro ha fornito quelle che vengono definite in un comunicato chiare ed inequivocabili informazioni di carattere tecnico-giuridico al prefetto di Palermo sulla vicenda GESIP e sulle possibilità che la stessa sia ammessa agli ammortizzatori sociali. A questo punto, denuncia ancora Orlando, si conferma non solo la bontà ma anche la percorribilità giuridica del piano che il Comune ha elaborato a inizio febbraio. Ma i rapporti istituzionali rimangono tesi. Qualora altri soggetti, continua il comunicato con argomenti giuridici pretestuosi e palesemente falsi, decidessero di escludere la GESIP dalla cassa integrazione, si assumeranno fino in fondo la responsabilità di questa scelta. Il sindaco di Palermo però, pur esprimendo comprensione per i motivi che hanno portato dei lavoratori all'esasperazione, afferma che non è assolutamente pensabile che delle manifestazioni per il diritto al lavoro si trasformino in tentativi ignobili di bloccare l'accesso agli ospedali o in gueriglia che danneggia cantieri aperti in città. Per questo, afferma Orlando, è chiesto che le forze dell'ordine procedano con tutti i mezzi in loro possesso all'identificazione dei singoli colpevoli dei gravi fatti di oggi, affinché l'amministrazione comunale possa verificare se gli eventuali reati commessi sono compatibili con la possibilità di svolgere attività lavorative per il comune in futuro. La vicenda GESIP ha continuato a riservare colpi di scena e cambiamenti di scenari, rendendo l'avvertenza sempre più complicata. Da quando iniziata non sono mancate promesse, mai rispettate e malumori. Colpi di scena, sentenza sorpresa, un'avvertenza che sembra destinata a non finire mai. La vicenda GESIP si trascina ormai da quasi due anni tra cortei, città in tilt e 1800 famiglie col fiato sospeso. Una storia che sembra ormai infinita e che ogni giorno appare sempre più ingarbugliata. Tutto inizia a fine dicembre 2012 con la concessione della Cassa Integrazione in deroga da parte del tavolo regione e parti sociali. Il problema sembrava ormai risolto, ma la Cassa Integrazione accordata riguardava solo un periodo di quattro mesi da settembre a dicembre 2012 ed è stata infatti in qualche modo retroattiva. I primi due segni sono stati accreditati poco prima di Natale, mentre gli altri due devono ancora arrivare nelle tasche dei lavoratori. Il liquidatore Giovanni Labbianca, poi sostituito su indicazione del socio unico, ovvero del comune di Palermo, ha dato il via alle procedure di licenziamento collettivo dei lavoratori, un modo per tutelarli, si disse, visto che è terminata la Cassa Integrazione, potranno ricevere il TFR dall'Inps e aver assicurato l'assagno in disoccupazione. Arrivano i primi colpi di scena, il Tribunale Contabile interviene a gamba tesa, la GESIP non può fallire, dicono i giudici, perché è ritenuta una società pubblica. Per i lavoratori non cambia molto, resteranno in piedi sia la procedura di licenziamento che la trattativa per la Cassa Integrazione che va ricontrattata. Inizia la sfilza di tavoli tecnici convocati dal sindaco di Palermo e alcuni sembrano addirittura fruttuosi, tanto che Orlando stila due piani di emergenza per la GESIP in cui si coinvolge anche la Regione che accetta e i palazzi romani per adesso approvano. In relazione al tavolo previsto in Regione per questa mattina che non si è potuto svolgere per l'assenza delle parti sociali le quali non condividevano il percorso della Cassa Integrazione in Derove individuata dal Comune di Palermo, il Presidente della Regione Crocetta sulla GESIP, comunica che la disponibilità di individuare altri strumenti di solidarietà c'è. Per questo comunica di aver convocato un tavolo per lunedì 18 marzo alle 16.30 presso Palazzo d'Orleans, continuando intanto un dialogo con il Comune di Palermo per discutere la possibilità di attivare percorsi alternativi e garantire l'utilizzo produttivo e il salario ai lavoratori attraverso strumenti idonei. Sulla vicenda abbiamo ascoltato anche il Presidente del Consiglio Comunale di Palermo, Salvatore Orlando. È saltato un incontro al Ministero per mancanza della Regione siciliana, che aveva chiesto il tavolo al Ministro Fornero e per la terza volta lo ha disertato. Come pensate di confrontarvi con la Regione? Il Comune di Palermo ha proposto un piano, gli altri hanno disertato i tavoli. Io ritengo che bisogna fare un atto di responsabilità, sedersi intorno a un tavolo, se questo piano a qualcuno non piace proponga un'altra cosa. È ovvio che non si può continuare a tenere 1800 lavoratori per strada e servizi fermi per la città di Palermo. Il piano del Comune di Palermo è sotto gli occhi di tutti. È un piano che è stato formalizzato, c'è stato il via libera da parte del Ministero e dell'Inps, la Regione non ha detto né sì né no, ha solo disertato il tavolo. Io credo che col senso di responsabilità che hanno i nostri governatori regionali si sederanno intorno a un tavolo e se dovranno fare delle modifiche, le faranno, ma ritengo che prima o poi una decisione vada presa. E ci fermiamo adesso per una seconda breve pausa pubblicitaria, tra poco. E' arrivato il digitale terrestre! Basta un decoder o un televisore con sintonizzatore integrato per poter ricevere la nuova offerta televisiva. Continua a seguire le nostre tv sul digitale, Tele One sul canale 19, Antenna 1 sul canale 185 e Video One sul canale 196. Non perderci di vista, posizionaci tra i preferiti o ricorda le numerazioni. Potrai anche vederci nelle province di Catania, Caltanissetta, Enna e Ragusa. Più copertura, più qualità, più servizi. Seguici sul digitale terrestre. Il consigliere comunale di Palermo, nel gruppo Ora Palermo, Antonella Monastra, esprime solidarietà alla coppia gay di medici che è stata verbalmente aggredita in una banca. Il nostro paese, ha detto la Monastra, resta ancorato a stereotipi e pregiudizi duri a morire, specie in Sicilia. L'episodio è drammaticamente emblematico e rappresenta un diffuso clima di omofobia. Domani sarà presentato il Pride nazionale che quest'anno si svolgerà a Palermo, un'occasione quanto mai opportuna e significativa per lottare contro l'omofobia e restituire piena cittadinanza ai diritti di tutti. Cambiamo argomento. Ieri sera a Villa Abate si è svolto presso la biblioteca comunale il convegno dal titolo I labirinti dell'infanzia, organizzato dall'associazione La Libellula di Bagheria e la Magic School di Villa Abate. Ascoltiamo le interviste. Abbiamo trattato dei problemi legati all'infanzia per quanto riguarda l'apprendimento, dislessia, disortografia, autismo. Soprattutto l'autismo perché è una malattia difficile da diagnosticare. Infatti presenta alcune caratteristiche che possono essere accomunate anche ad altri disturbi dell'infanzia. Siamo contenti del riscontro ottenuto per questo convegno. Infatti sono intervenuti professionisti del settore, insegnanti, genitori. Quello di trattare comunque un tema e di sensibilizzare la gente a tematiche che sono molto conosciute che però si conoscono in realtà poco. Dare anche delle indicazioni su come comportarsi, anche dei punti di riferimento a cui rivolgersi. Naturalmente ci auguriamo che il messaggio sia passato e di avere lasciato comunque, di avere dato delle giuste informazioni utili per potersi gestire questi problemi. Speriamo sia andato tutto bene. Ripeto, abbiamo trattato tematiche che riguardano l'infanzia, quindi che interessano un po' tutti, insegnanti, genitori, puntando molto sulla sinergia, sulla sinergia tra professionisti, tra mondo degli insegnanti e soprattutto sperando nella collaborazione dei genitori perché sono i primi che naturalmente devono interessarsi delle problematiche dei figli e quindi di riuscire a risolverle. Abbiamo visto l'interesse, in realtà molti degli sguardi dei genitori e degli insegnanti sono rimasti impressi nella mia mente. Si vedeva che risuonava e si vedeva anche che comunque erano molto interessati. Ci hanno fatto tantissime domande, dopo il convegno hanno preso i contatti, c'è una partecipazione attiva e c'è un interesse reale. Noi come associazione, come associazione Libellula, siamo aperti appunto con la scuola, ad una collaborazione e siamo aperti in realtà a voi cittadini nel cercare di portare la psicologia alla gente. Questa è la nostra mission. Vogliamo far capire che lo psicologo non è un mostro, piuttosto anzi è una persona che ha gli strumenti, che ha gli strumenti e che ha le competenze per raggiungere, per arrivare laddove appunto un normale genitore, un normale insegnante non può fare. Un po' perché appunto i ritmi sono frenetici, gli insegnanti hanno ben 25 bambini se non addirittura di più. Per cui mettere pensiero sulle cose è un compito dello psicologo e noi siamo qui per questo. E hanno iniziato oggi i volontari in strada per tre giorni per la nuova campagna delle uova di Pasqua dell'AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma per raccogliere fondi per la ricerca medica e l'assistenza ai malati. Fino a domenica i volontari dell'AIL venderanno le uova di Pasqua in nove piazze del comune di Palermo e inoltre 50 comuni siciliani. E domenica davanti a una ventina di parrocchie del capoluogo a Palermo, stand aperti oggi dalle 9 alle 20 in via Maiocco, via Le Strasburgo, in piazza Castelnuovo, in via Notar Bartolo, in piazza Unità d'Italia, in piazza Croci e in via Leonardo da Vinci. L'iniziativa, come detto, si ripete domani e dopodomani. Ad Altavilla Milici, alla scuola Monsignor Gagliano, l'esperienza del gruppo di attori inglesi Teatrino. Ascoltiamo il servizio. La compagnia teatrale di attori inglesi, che fanno parte del progetto Teatrino, è stata ospite dell'Istituto Comprensivo Monsignor Gagliano. La compagnia fa capo all'Associazione Culturale e Linguistica Educational. I quattro giovani attore madrelingua, Danny, Peddi, Sebastiano e Betty, hanno rappresentato per gli alunni della scuola secondaria di primo grado tre sketch interattivi e didattici, canzoni e drammatizzazioni in inglese, seguiti da workshop, che mirano a veicolare strutture e funzione e a porre l'enfasi sulle competenze di speaking e listening. Il professore Di Franco, referente per le lingue straniere, ha sottolineato che il progetto mira, con una serie di attività, coinvolgere emotivamente gli interlocutori attraverso la musica e il movimento. In particolare, molto efficace è il metodo usato per insegnare la lingua inglese attraverso la strategia teatrale, che offre una grande opportunità formativa e rivela la sua grande valenza educativa e didattica. Questa sera ai Candelai a Palermo, Giuseppe Cucè presenterà il suo nuovo disco. Cucè è stato oggi ospite di Radio One. Questa sera voglio presentare al pubblico di Palermo questo disco, dal titolo Attraversando Saturno, che è il mio secondo album, a cui sono particolarmente affezionato. Insieme a me musicisti, stasera vi faremo ascoltare questi brani un po' pop, jazz, cantautorale, quindi sono contento di essere qui. E questa sera sentiremo, per chi sarà chiaramente ai Candelai, ascolteranno soltanto le ultime tue creazioni o ci sarà anche qualcos'altro del repertorio? Sì, faremo anche il primo disco, faremo entrambi i dischi, perché li abbiamo miscelati e abbiamo creato un unico progetto, un unico assemble. Perfetto, quindi questa sera non perdetevi assolutamente l'appuntamento ai Candelai per vedere il grande artista Giuseppe Cucè. Bene, per oggi è tutto, io vi rimando alle prossime edizioni del nostro notiziario. Arrivederci. Grazie a tutti.